Ok oggi ci fai il latte di sua cena? Parte 2 però! Ah raga, il latte di sua cena avevo venuto ieri per scrociarlo e vi dovo l'assenza Parte 1 però! Aspetta, mica te lo faccio così! Che cosa vuoi fare? Favose... 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 Aspetta, mica te lo faccio così! Favose... 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 Acqua e ghiaccio! No, stasera no! Favose... Sì ma manco sta a senso della mia casa! Allora raga, cos'è l'una? Cioè, arriva qua la... Favose... 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 Grazie a tutti